Antonio Gramsci, uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano, fu arrestato a Roma l'8 novembre 1926. Gramsci era deputato al Parlamento e in base allo Statuto del Regno non avrebbe potuto essere arrestato né processato senza il preventivo consenso della Camera dei Deputati. Ma nel novembre del 1926 alcune delle leggi fondamentali dello Stato non avevano più valore. Il governo di Mussolini infatti per sopravvivere ricorreva a provvedimenti repressivi, scioglieva i partiti, sopprimeva i giornali di opposizione, istituiva il confino di polizia. Gramsci fu inviato appunto per alcuni mesi al confino nell'isola di Ustica, poi venne rinchiuso in carcere a Milano e a Roma in attesa del processo che si sarebbe svolto innanzi al Tribunale Speciale. Milano 10 maggio 1928 alla madre. Vorrei che tu non ti spaventassi o ti turbassi troppo, qualunque condanna siano per darmi. Che tu comprendessi bene, anche col sentimento, che io sono un detenuto politico e sarò un condannato politico, che non ho e non avrò mai da vergognarmi di questa situazione. Che in fondo la detenzione e la condanna le ho volute io stesso, in certo modo, perché non ho mai voluto mutare le mie opinioni, per le quali sarei disposto a dare la vita e non solo a stare in prigione. Gramsci fu condannato a vent'anni di reclusione e nell'estate del 1928 fu trasferito al carcere di Turi, in provincia di Bari. Ebbe il permesso di scrivere soltanto due lettere al mese, da sottoporre sempre al controllo della censura. Nelle lettere dal carcere, pertanto, Gramsci stesso fu costretto a censurare i suoi giudizi, le sue parole. Era un uomo politico, un uomo d'azione, ma nelle lettere non poteva mai parlare di politica. Grazie per la visione!